Cazzo, è da un po' che non faccio video Eh, eh, come? Eh? Siete qua? Ah, saluto Toddy, saluto Lucas, Luke King che sto tenendo per dormire a casa mia e Davide, che ovviamente dice che Luke King lo coppia. Questo video ti sta piacendo? Sgancia un pollicione esplosivo Vuoi farti i cavoli miei dalla mattina alla sera? Stai dal canale Telegram. Se vuoi essere salutato a fine video, ricordati hashtag salutami nel video di Maxo Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video io sono Maxo, sono nella Road to Arena 9 che avete non avete atteso perché non avete lasciato i pollici in su Ok, forse no e io voglio registrare perché volevo fare due cose in una abbiamo in questo episodio faremo tantissime cose tantissime cose allora iniziando a dire che se metterete 10-15 se raggiungeremo i 15 pollici in su nel prossimo video aprirò questa cesta che è la cesta del torneo so che siete curiosi di vedere che niente c'è sono sempre il mio clan anche se me ne sono andato prima dei domatori no basta ne avevo 100 basta ne avevo 25 no perché io devo premere adesso oggi siamo qui con nessuno siamo qui con nessuno salve signor nessuno ci potrebbe conosciuto anche come Ulisse conosciuto come nooo così spammi altri youtuber apriamo due chest velocissimi perché so che siete curiosissimi di vedere cosa mi esce dalla magica al chest che ho trovato proprio a random apriamo un bauli di maggio ti è proprio no look no party senti ma scusa tu hai team team weaver siamo di nuovo qua per su team weaver così vede anche il signor nessuno e vediamo cosa troviamo magari si trovano le leggendali magari non si sa mi piacerebbe si ma di solito quando si dice non si trova mai quindi oggi non troveremo una leggendaria se se non la troveremo è giusto l'abbiamo detto non la troveremo invece se che la troveremo e voi lascerete i pollici in su invece no perché ci sono io ooooooooh basta basta posso ritirarmi dalla miniera posso andarmene no eh no devo sempre che schifo 900 quasi ne ho questi da un secolo che non li vedevo sono veramente le carte agghiaccianti abbiamo qui un esemplare di tesla di cavolo poi abbiamo gente molto molto poco dei barbari come dire gente barbarica vediamo poco educata non si trova la leggendaria sai perché? perché sto gioco è una merda vediamo ci possiamo fare dallo sticino giustamente ultima carta mi sto per cagare addosso da quanta merda ho trovato vabbè voi fate finta di niente lasciate il pollice in su noi abbiamo trovato la leggendaria yeee guarda 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 leggendaria ah 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 leggendaria leggendaria mamma mia abbiamo trovato la leggendaria siii eee pollice in su allora oggi visto che siamo in questo road tu tua madre puttana useremo questo deck aspetta a che road dovete prendere road tu eee eee l'autostrada ah ok con le strisce pedonali però si consigliare come come sbagliare visto che io sono troppo bravo quindi così vai 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 non è non è scriptato perché ce l'ha trovata subito quindi buon per me si ha uno con 2600 trofei buona fortuna tattico sto laggando perfetto eee capannezza capannezza eh mi scrivo su steam dio bono scusò infame eh me lo sto leggermente laggando spiego qui lo steam ma se tipo vuoi su steam venire da un po' vangulo ecco scusò oh no 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 questo ha un deck un po' leggero eh fa la faccia eh ora sono infame peggio del salame però intanto allora di qua non butto più un cacchio perché dai gli ha dato un colpetto mo non buttiamo più una minchia tu te stai osservando vero? eh sto ragionando ok perfetto non buttiamo più una minchia in caso ci zappa mettiamo la torre ma lui non ci zapperà mai perché è un coglione ci metti i goblin a 10 attenzione pure noi ce li abbiamo scusa uno stronzo perché mi fallite la torre vattene muori ok perfetto io sto un po' scattando e tu sei una puttana una puttana guarda che non si sposta sto coglione però è meglio perché ci lanci il bombarolo e non si sposta sennò due mazzate l'era morto allora possiamo mettere il gicasco mettiamo il gicasco davanti se abbiamo culo pure il principe era sfondargli un po' il veretano lancia le frecce molto intelligentemente e io qui non faccio esattamente una minchia anzi toglietemi non ti faccio prendere un elizir te allora qui lui dovrebbe lanciare un altro pecca se non lo lancia è un grande pirla ma è un grande allora guarda faccio così non spreco niente non spreco niente così mi becco due hit due di numero ok questa partita è vinta 100% brumotti lui si è preso l'elizir ma sarà un po' stronzo eh questo qua ancora no perché me l'hai targettato infame allora io direi che faccio così guarda che bella lasciata che gli faccio voglio lancio qualcosa così per sicurezza se lo sapevo che tu sei un infame bastardo ho fatto una mossa un po' di merda eh potevo risparmiarmela però oh no no è leggero mi dicono tutta una ladra guarda possiamo fare così eh del tuo coso me ne sbatti i coglioni ecco proprio cioè no look no look proprio l'ho distrutto vai un'altra cosa un'altra capaschia l'estrattore non hai capito che io te l'ho tolgiuto lo stupro eh mi sembra giusto no allora certo certo salame sempre per ultimo venga avanti salamo perfetto più perfetto di così allora abbiamo quasi finito la torre intanto che il gigante va avanti io posso contrastarlo a stragrandissima minchiazza di cristo che cazzo ho detto guarda guarda come muore tutto qua guarda come muore guarda guarda eh certo ti sarebbe piaciuto dai tirare quel colpo cristo ok forse è di culissimo ma ce la facciamo no no non ce lo faccio c'è pochissimo cioè sono rimasti veramente due secondi scontati allora ce la faccio se lui non me lo contrasta ce la faccio ce la faccio ce la faccio guarda come ce la faccio guarda come ce la faccio vai no 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 dai 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 bombarolo 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 confidente vai 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 P 18 lasciamo stare ho guidato come una gallina però ci stava tutto mamma mia mamma mia ultimamente questi partiti mi capitano spesso vediamo cosa possiamo cambiare in questo deck un cazzo perchè perfetto Andiamo a vedere la prossima battaschia Spera non ero a gare come prima E quello era il mio momento Se io riuscivo a spammare per la partita Tu manda la 90 Sei nabbo Sì certo Non trovo quelli più forti di me Bravo, bravo In culo fuicati il pollice Mi hai tutto più coppito Cos'è meno 29? Mi ha derubato sto gioco Andiamo a farne un'altra Io ho queste coppie all'inizio del video Non abbiamo aperto nessuna Magical Chest Abbiamo trovato molte leggendari Senza aprire Magical Chest E gli spariamo un buona fortuna Questa è la mia stessa coppia Anzi, una in meno Qui tu sei scarso, grazie Prego, prego Grazie, grazie Oh, ma veramente Ma che è un ritorno Ma tutti col boscaiolo Ma veramente Ma ho ficcatelo in quel posto Certo, certo Guarda che nabbo Sì, sì, metti la furia Dove minchia la metti la furia? Coglione Sì, lo so Ti vai prendere i danni gratis Mi hanno quasi fatto la torre Però Lui ma non si aspetta lo spam Che gli arriverà Ah, che culo Ma ti ha già devastato la torre? Mmm Già, peccato che gli ho devastato anch'io Molto utile, eh, quel boscaiolo Guarda la sua torre Guarda la sua torre Ciao torre! Vabbè E sono ancora vivi, eh Ciao Torre centrale? No, perché Di là è stronzo Ripo principio Infatti, utile a grattarsi le palle È sempre utile Da C'è chi lo trova utile C'è chi lo trova disutile Non inutile Disutile C'è chi lo trova doloroso C'è chi lo trova doloroso Eh, mi ha fatto le palle con un po' di furia Quando sei infuriato che ti grattini valli Eh, infatti Vabbè Basta che con l'infuriato non sia l'attore della tua ragazza No, no, per carità Dopo lì ti stacca direttamente Allora 3, 2 1 Più Lasciamo andare avanti lui Visto che non l'ho fatto colpire i barbari Tutti vivi Yeee Vedi che è GG Così il principio è ancora rimasto in vita Ciao 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 Il boscaiolo qui lì è servito Mamma Mamma mia Le frecce Sulla città delle frecce Eh, le frecce non Non hanno perduto la partita Non Veramente Hanno fatto vincere questo round Veramente C'è, io Sono molto emozionato perché è la mia prima vittoria su Clash Royale Da notare con gli stessi trofei dell'infame che mi ha battuto prima Oh, ho battuto il record Piliamo il baule della corona Giusto per avere i big money per YouTube Subito proprio no look Giusto per fare un po' i money grabber Giusto per fare un po' i money grabber E fare più video Più, più Però tanto proprio erano tagliati Quindi sono più corti Allora, goblin i lancieri Livello 10 Estratauro Eh, non sento più là Mi si è buggato l'audio Ehm Claudio ritorna Giocherò senza audio Edo, mi sa che devi uscire un attimo attività Questo quanto è intelligente da 1 a 0? Eh, poco Questa invece è stata una mossa molto intelligente Eh, chiedo scusa se non c'è più Claudio Minchia, l'11 Ma tu sei scemo Allora Giustamente Quella lì Quella lì Giù mettiamo musica Tanto non c'è musica di sto fondo Piangi, piangi Piangi che ti fa bene Ah, sono infame però Io ti amo lo stesso Ti amo la vita Quei goblin faranno tantissimo Soprattutto con quel infame dietro Che si deve vinculare Tantissimo Ehm È un po' una situation de merda E vabbè Mi sa che la perdo la torre Che fa male Ogni tanto fa male la ferita, eh Ma non sempre può far bene Ma sei un figlio di puttana però Eh, però Dillo che sono stronzo Però Il vantaggio Allora Adesso li faccio così Tiè, vedi È a Mokia che ha fatto la combo Senza volerlo No Che cazzo fai bombarolo? Ah, grande Grande, grandissimo L'importante è che vada avanti il principe Eh, non è vero un cazzo Ecco, infatti Tutto, tutto bene Non è successo niente, eh Questo qua è scarso Mi sta facendo il culo Ah, è scarso Un par di palle Livello 10 No, è livello 10 Sto scemo C'ha pure 2700 Ogni torre Eh, a me Io ti ho detto Fosse era meglio Se ti disconnettevi un attimo Perché hai tolto il suono Ah, non l'ho sentito Forse Aspetta, se faccio così? Ah, Crash Incoming Perfetto Ah Crash Incoming Veramente Santa Claus is coming To you Vai, voglio proprio vedere Che minchia fai Contro sta roba Giustamente Piazzi le cose che non servono Tipo Quella cosa inutile Ciao torre Certo, certo Poi me la piglierò col tuo manager Sto dicendo cose completamente a random E questo C'è la madre molto A 90 Che mi sta molto a cuore Diciamo A cu A cuore al contrario Perfetto Tu targetta quelli lì Mi raccomando Mi raccomando zio Targettali No No Non dire Mi è così conciutato Bombarolo Cioè guarda qua Quanto c'è le altre queste le carte? Zio Non hai calcolato bene le misure? Se lo potresti ancora fare? Mm Volendo sì C'è quel maghetto Che non mi fa una minchia proprio Cioè me lo fico in quel posto Allora dove adesso metterà il gigante royal? Prevedibile quanto una mignotta Eh Che ho detto io? Che cozzo fa sto gigante? Dristati su Ecco bravissimo Bravo Tu sei che hai capito tutto della vita Allora Abbiamo tantissimo di zir Quindi Certo Stai tranquillo eh Ti lascio tirare giù tutto Al massimo ti faccio pareggiare Non ti lascio tirare giù Ehm Gli stai facendo male? No Non gli sto facendo male Lo sto disintegrando Wow Volevi Volevi Guarda che faccia Senza suoni ho vinto questa partita Mamma mia Più 26 Allora ragazzi Io vi ricordo di Lasciare un bel pollicione qui sotto Perché Ci stiamo avvicinando ogni giorno Sempre di più all'Arena 9 Mancano 148 trofei All'Arena 9 Aspetta vuoi lasciare quel baulet La corona di così? Se mettete il pollice in su Quello apro Qua ci sarà stato l'MLG Stupendo pazzesco Apriamo questo bauletto Perché Lo voglio aprire Però non ve lo farò vedere nel video Guarda quanto oro Mamma mia Proprio Vediamo Due gemme Mamma mia Se mi regalavi 200 gemme Mi fai più felice Stregone Due fornaci Quindi domani sera pizzata Dai Cosa ci offri? Uh Quattro moschettini Quindi potrebbe uscire la epica No Non male Non male Non male Anche se non li sto più usando In questo deck Non li sto più Usaggiando Però Fanno sempre comodo Fanno sempre comodo Ci vediamo in un prossimo video Passate dal canale Telegram Passate dalla pagina Fastbook Passate da 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 YouPorn di vostra madre Non lo so se ce l'avete Che quello non lo lascerò in descrizione Perché me lo dovete passare voi Ci vediamo In un prossimo video Che penso che sarà quello Dell'evento di Luke Giustamente Edo Puoi salutare il nostro pubblico Bye Bello Ciao 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 Grazie a tutti.